La città che si sgretola senza eufemismi, lavori eseguiti male per la fretta e le poche risorse a disposizione. È il caso della chiacchierata rotatoria, l'opera mauriana realizzata con qualche imprevisto intoppo a ridosso dell'incrocio tra via Badia e via Santa Lucia. Un incrocio ibrido, che presto si è rivelato un vero e proprio pericolo per la circolazione, un vero intraccio. Ben quattro sinistri in appena sei mesi, da quando al centro dell'incrocio è apparsa l'incompiuta rotonda spartitraffico, in attesa del concorso di idee lanciate dal primo cittadino per essere completata e abbellita. L'idea del concorso è venuta a lui, che ha pensato bene di siglare l'opera pubblica prima della definitiva realizzazione e che in certi tratti rasenta qualche difettuccio di costruzione, come è ben visibile sui vicini marciapiedi della rotatoria firmata amministrazione comunale il sindaco Pasquale Mauri. Frutto delle opere pubbliche a ribasso, borbotta pubblicamente la crescente opposizione. L'outlet dei lavori pubblici, la grande stagione del prendi due e paghi uno. Con i soldi di una sola opera si è infatti realizzata la magnifica rotatoria. Ma a sgretolare parte di un'opera che va stretta a mezzi pesanti, automobilisti, scuteristi, centauri, fantini e ciclisti, è stato l'ennesimo camion che si è inceppato nella strettoia di una rotatoria malriuscita. Così, mentre si attende la fioritura del prato nella rotatoria e l'idea vincente delle giovani menti angresi, qualcuno ha osato infangare l'opera mauriana. La vera grande della stagione delle piccole e grandi opere pubbliche è dei perenni cantieri cittadini, immortalati in questi giorni anche da Google e dalla sua macchina, che nell'aggiornamento delle mappe dello Street View, mostrerà al mondo per i prossimi 6-7 anni i cantieri dei lavori pubblici sospesi e la New Deal del vero cambiamento cittadino.